Essere qui nell'aula Paolo VI in Vaticano per il 26esimo concerto di Natale, auguri! And it's bitter, though you're known, yes it's true. With Jesus, falling in love, with Jesus, was the best thing I ever, ever done. Ben trovati amici da casa, buon Natale a tutti, siamo qui da Telepace per raccontarvi attraverso questo speciale di Natale l'evento del concerto di Natale in Vaticano che si è svolto lo scorso 24 dicembre presso la Sala Nervi. Un concerto di Natale in Vaticano che ormai è giunto alla sua 26esima edizione, nel quale abbiamo visto tanti artisti, ma soprattutto due progetti, ecco, salire su quel palco. Soprattutto i due progetti sponsorizzati anche dalla Scolas Occurrentes, che è la Fondazione Pontificia, e dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica. Il progetto di solidarietà quest'anno ha toccato l'Iraq e l'Uganda, dove sono stati costruiti, dove verranno costruiti due campi profughi. Quindi il tema anche che quest'anno il concerto di Natale ha avuto, facciamo rete con l'educazione. E allora non sarò solo qui a raccontarvi di questo evento, ma avrò con me e insieme a me Fra Alessandro Brustenchi, che saluto e ringrazio. Salve, pace e bene a tutti. Ciao Fra Alessandro, sono contento che sei con me a raccontare ai nostri amici a casa durante questo periodo di Natale, quello che è l'evento, che è il concerto che abbiamo avuto qualche giorno fa, appunto, nella Sala Nervi, dove ci sono stati tanti artisti, tanti cantanti, che come te anche nel mondo portano attraverso la voce, la musica, ma soprattutto la pace e in questo tema anche la solidarietà. E proprio con questa domanda vorrei partire con te. Quanto è importante oggi portare la solidarietà attraverso la musica e il canto? Il Natale è sempre un'occasione unica per poter trovare un clima familiare. Io penso che il concerto di Natale è proprio un cliché, che ci parla di qualcosa che è arcaico, che è antico e trova la radice proprio nella Sacra Scrittura. Quando Gesù nasce c'è il coro degli angeli, gli angeli stanno insieme e cantano. Dunque ogni volta che arriva Natale noi sentiamo la necessità, l'esigenza di riavere davanti questa bellissima scena e allora ecco che tanti cantanti, cori, musicisti si trovano insieme proprio perché è come voler rivivere il momento in cui gli angeli hanno cantato in onore del bambino Gesù, del Dio fatto uomo. Ed ogni volta che assistiamo a questo riviviamo la stessa scena, come dicevo. Fra Alessandro, quanto è importante oggi con la musica testimoniare il Signore, ma soprattutto portare il Vangelo, come fai anche tu? È un mezzo privilegiato la musica, perché io sono solito dire che quando Dio ha creato il mondo, e non sono il primo, non sarò l'ultimo a dirlo, l'ha creato con la sua parola che è una parola ordinata, che è musica. Per cui Dio creando il mondo cantava, Dio faceva musica, ha creato l'ordine del cielo e della terra, ha creato l'ordine dello spazio, l'ordine del microcosmo e del macrocosmo. Tutto questo è ritmo, è armonia mundi, la chiamavano una volta, è la melodia. Dunque la dimensione spirituale, la dimensione fisica, la dimensione anche intellettuale. Così come c'è la melodia, così come c'è il ritmo e c'è l'armonia. Questo è molto bello, perché ogni volta che facciamo musica, noi ripartecipiamo in un certo modo di questa grande creazione di Dio. E ecco perché possiamo parlare di un momento diciamo ricreativo, perché nel vero e proprio senso della parola noi veniamo ricreati grazie alla musica. È una diretta parola di Dio, un'occasione da non perdere per trasmettere il Vangelo. Come dicevamo all'inizio, quest'anno a sostenere, come ogni anno, c'è la Congregazione per l'Educazione Cattolica con il tema, nel concerto di Natale, facciamo rete con l'Educazione, proprio perché è importante ed è fondamentale. Allora vogliamo ascoltare l'intervista che il nostro giornalista Filippo Passantino ha fatto a Mazzignorzani nel parlarci appunto di questo progetto nel concerto di Natale in Vaticano. Vediamolo insieme da casa. Eccellenza, quali progetti sosterrete grazie a questo concerto di Natale? I progetti di quest'anno sono legati anche al tema che abbiamo scelto per il concerto 2018, e cioè il tema dei rifugiati. Tra le tante tematiche relative all'educazione, all'impegno per le future generazioni, e questo è un po' il senso anche del coinvolgimento del nostro di Castero, abbiamo individuato quella dei migranti e soprattutto dei rifugiati, che è una componente particolare delle popolazioni migranti. E in modo particolare, tra i migranti, quello che a noi colpisce molto, colpisce tutti, non solo noi, è la presenza dei minori, cioè i bambini, i ragazzi e i giovani, che sono la parte più debole, più fragile delle popolazioni rifugiate, rifugiate in zone appunto sempre molto precarie, pericolose, e soprattutto i ragazzi non hanno la prospettiva, immediatamente perdono la possibilità di andare a scuola, di frequentare le scuole, le università, e quindi sono il futuro bloccato di queste popolazioni. Realtà diverse, ma esigenze comuni, quali sono? Come interverrete? Beh, quella dell'Uganda, dei Salesiani, è una delle tante esperienze che loro hanno nel mondo, sono molto coinvolti in questa emergenza, e per noi la cosa più importante è non fermarsi all'emergenza, ma uscire dall'emergenza. Allora in questo senso l'esperienza in Uganda è soprattutto finalizzata a raccogliere i giovani, i ragazzi e le donne, le famiglie, che vengono dal sud Sudan. Mentre invece quello del nord dell'Iraq è appunto promosso, il progetto è promosso da Scolas Occurrentes, che normalmente fa altre esperienze nel mondo, perché promuove l'educazione informale attraverso l'arte, la musica, lo sport, soprattutto nelle periferie della città, con ragazzi che non hanno la possibilità di frequentare le scuole, soprattutto i minori, e invece questa volta si cimentano con la situazione dell'Iraq del nord, dove a causa dell'ISIS c'è stata la distruzione di migliaia e migliaia di scuole, proprio distrutte, rase al suolo, e la necessità in questo momento è di ricostruire il sistema educativo. Abbiamo ascoltato Monsignor Zani e i nostri microfoni, che ci ha parlato del progetto appunto sostenuto durante il concerto di Natale in Vaticano. Fra Alessandro, quanto è importante oggi attraverso la musica portare la solidarietà agli altri? Mi chiedono spesse volte, ogni volta che faccio concerti, spesse volte mi chiedono appunto di fare dei concerti per solidarietà, di beneficenza, perché la musica richiama tanto a questo. La musica non si fa mai da soli, anche quando uno o canta o suona da solo, è sempre un percorso che ha incontrato tante persone, dunque è una solidarietà reciproca, è un crescere sempre insieme. Già il fare musica, già il prepararsi, già l'essere musicista è un momento solidale, e dunque è un aiutare, è un essere aiutati, un momento di interscambio che ti educa ad aiutare chi ha più bisogno. Chi ha veramente fatto un corretto percorso musicale in qualità di musicista, non può non riconoscere questa cosa. Per cui un animo educato alla musica è un animo educato alla sensibilità dell'altro, della solidarietà. Non si può essere dei veri musicisti senza avere un cuore aperto nei confronti di chi più ha bisogno, perché appunto, come dicevo, ciascuno di noi si è trovato nella necessità. Questa è già una prima forma di evangelizzazione che la musica da sé porta al mondo. Da poco si è svolto il sinodo, si è anche concluso. Nel documento, in un punto appunto, il sinodo parla della musica. La musica resta un canale privilegiato per aiutare le persone dal punto di vista umano e spirituale, come ci ha ricordato anche il sinodo. Assolutamente sì. Bisogna essere molto cauti, molto attenti e molto sapienti. In questo la Chiesa, in tutta la sua documentazione relativa alla musica, ci dà delle linee guida molto molto utili. Distingue tra quella che è la musica liturgica, la musica sacra, diciamo questo grande tema, e la musica religiosa, che sia popolare, che sia moderna. Ci sono diversi stili, diversi generi, che ci permettono in questo modo di comunicare il Vangelo. Qualcuno che è dedicato solo ed esclusivamente per la liturgia, e deve essere solo così. Qualche altro genere, invece, è dedicato più per l'evangelizzazione, e deve essere così. Bisogna sempre mantenere la distinzione dei diversi generi, onde evitare la confusione degli ambienti, perché altrimenti poi non si comunica più. Una musica che è per l'evangelizzazione non è adatta per la liturgia. Una musica per la liturgia non necessariamente è molto adatta per comunicare per l'evangelizzazione. Allora, bisogna dare a ciascun genere il suo specifico posto. Credo che, se si rispetta l'ordine, penso che tutto funzioni al meglio. Sono solito dire che c'è posto per tutti quando ciascuno sta al suo posto. Noi vogliamo ricordare anche da casa il numero solidale per sostenere appunto questi due progetti, che è il 45530, è il numero che i nostri amici possono ancora per altri giorni poter digitare per far arrivare appunto la solidarietà attraverso proprio la musica, ma anche attraverso i propri gesti. A Natale diciamo che è un po' il clima, no? Della solidarietà fra Alessandro. Beh, sì. Un po' sì. Direi proprio di sì. Quindi tutti siamo già più propensi ad essere solidali. Allora è l'occasione giusta anche per aiutare questo progetto, sostenuto appunto anche, come dicevamo prima, dalla fondazione e dalla congregazione. Ma insieme adesso ascoltiamo le interviste che abbiamo realizzato per i nostri amici a casa prima del concerto, ai tanti artisti come Teno che portano attraverso la propria voce l'arte in tutto il mondo e abbiamo intervistato qualche artista e ascoltiamo proprio qual è stata la loro esperienza personale soprattutto che li ha resi partecipi di questo concerto di Natale in Vaticano. Ascoltiamoli. Abbiamo qui Raffaele Gualazzi che ringrazio per questa intervista per il nostro speciale del concerto di Natale in Vaticano. Raffaele, questa mattina avete incontrato Papa Francesco. Cosa ti ha colpito del suo messaggio e delle parole che vi ha detto? Assolutamente la semplicità e la vicinanza che ha fatto sentire alle persone che hanno avuto la fortuna di incontrarlo. E' molto bello trovare questa dimensione umana, vicina alle persone, di semplicità, molto molto bella. L'esperienza di solidarietà che passa attraverso il concerto di Natale in Vaticano, due campi profughi per l'Iran e l'Uguanda. Quanto è importante che la musica collabori a queste esperienze, a queste attività di bene? Credo che comunque qualsiasi attività di solidarietà è prima di tutto importante per chi la fa perché dona una ricchezza, una forza e soprattutto stimola tantissimi pensieri, tante riflessioni sulla propria condizione esistenziale. Quando eravamo ragazzini, avevo circa 13 anni, ricordo che con un'associazione di scout siamo andati a ricostruire un centro di accoglienza per delle persone. In Albania nel lontano 1900, se non sbaglio, 93 o qualcosa del genere. E sì, già quella è stata un'esperienza bellissima. Poi quando la musica si mette di mezzo è veramente una grande fusione, una grande energia che si va a creare. Perché la musica di per sé è già un messaggio importantissimo. Quando riesce a donare oltre a quello che già dona, diventa ancora più grande. Allora ricordiamo ai nostri amici a casa il numero solidale che è il 45530. Lo ricordiamo insieme. Quindi c'è un numero solidale che potete chiamare che si chiama il 45530. Grazie Raffaele. Grazie a voi. Do il benvenuto e il saluto ad Ermal. È già la seconda volta, Ermal, che ci ritroviamo. Allora, partecipi per la prima volta al concerto di Natale in Vaticano. Ecco, un'esperienza di solidarietà. Quanto è importante che la musica sia anche a servizio del prossimo? È importantissimo che la musica sia a servizio del prossimo. Anche perché attraverso la musica si può arrivare con dei messaggi alla gente in maniera più semplice. Perché la musica in questo caso diventa un veicolo, un veicolo universale che tutti conoscono. Che insomma, ognuno di noi ascolta la musica. La musica è aggregativa per sua natura. Essendo aggregativa per sua natura può portare più facilmente al proprio interno dei messaggi. In questo caso di solidarietà, ma anche tanti altri. Saranno ricostruiti i due campi profughi, ma soprattutto il tema di quest'anno è facciamo rete per l'educazione. Quanto è importante oggi educare anche i giovani attraverso la musica? È importantissimo educare non soltanto i giovani, ma anche i giovanissimi. E a volte anche gli adulti, vero sai? Io credo che la musica però da sola non possa bastare a educare, perché come dicevamo prima, la musica a volte viene anche consumata rapidamente. E quindi per l'educazione serve un po' più di tempo. Quindi la musica può svolgere un ruolo di catalizzatore, ma di certo non può fungere da educatore principale. Insomma, servono sicuramente dei buoni esempi che possono, che devono essere ritrovati ovunque, a partire dalla famiglia. Però qua si entra in un altro tema che è abbastanza lontano dalla musica. Hai incontrato qualche tempo fa Papa Francesco, no? Mi raccontavi prima. Qual è stata la tua esperienza personale e la cosa che ricordi di quell'incontro? Beh, in realtà era un incontro con tutti, insomma, non tutti, ma molti artisti albanesi. Io sono albanese e quindi mi hanno chiamato per fare questo incontro, per andare a rappresentare la mia madre patria, diciamo, da Papa Francesco, questo incontro con lui, beh, è stato molto bello, molto interessante. Papa Francesco ha sicuramente una grande, emana una grande energia vitale, emana una grande energia e dall'altra parte questa energia si vedeva riflessa nelle persone che erano lì, anche. Quindi è stato un bel momento rapido, veloce, però è stato sicuramente intenso. D'altronde non è che ti capita tutti i giorni di incontrare, insomma, il Santo Padre. Senti, allora dobbiamo lanciare il numero solidale per... Il numero importantissimo da ricordare è il 45530, è importante donare perché la ricostruzione di questi due campi profughi è molto importante perché, insomma, ci sono un sacco di persone che si occupano delle vite di altre persone in difficoltà e noi dobbiamo fare la nostra parte. Quindi 45530. Grazie Erman. Grazie a te. Ciao. Giovanni Caccamo, ciao, ci ritroviamo dopo un po' di tempo, noi due. Allora, volevo subito iniziare con questa domanda. Hai cantato ed hai incontrato Papa Francesco, ci racconti questa esperienza? Ma è stato magnifico, ho cantato per lui La Cura, Eterno, Piano e Voce, in occasione del Sinodo dei Giovani. È stata veramente una fonte di luce, un momento indimenticabile. Difficilmente si può riuscire a descrivere l'emozione di questa esperienza perché credo che sia come mettere il pezzettino mancante in un puzzle. Quindi sono molto, molto contento. Tu sai che domani canterete per la solidarietà, no? Saranno costruiti due campi profughi, quindi la musica a servizio come strumento del prossimo. Quanto è importante oggi lanciare per voi artisti questo messaggio soprattutto alle nuove generazioni? Ma io credo che sia fondamentale condividere la nostra vita con gli altri, condividere un pezzettino della nostra quotidianità per fare del bene, per tendere le mani alle persone che hanno meno fortuna di noi. Per tanti motivi, perché in realtà donare qualcosa è di fatto poi si rivela anche un dono per noi stessi, è uno scambio. L'umanità è fatta per questo, per essere solidale, per in qualche modo per darsi una mano. Quindi la musica può essere un grande veicolo di emotività, di messaggi e in questo caso anche di concretezza, donando al 45530. È vero. Volevo farti quest'altra domanda. Un ruolo educativo oggi la musica, fondamentale e importante. Quando è stato importante per te anche nella tua crescita personale, sapendo e conoscendo anche la tua esperienza, avendo letto anche qualcosa? Sì, ma sicuramente il mio percorso è il frutto di una prima fase fatta di tantissimi ostacoli, di tanta attesa, di studio, di determinazione. Credo che questi passaggi ti aiutino poi, una volta arrivato a un primo risultato, che poi è l'inizio di un nuovo percorso, ti aiutino ad avere la percezione di quello che stai facendo veramente. Per me la musica è una vocazione, non è un lavoro. Quindi è una missione per me riuscire a catturare storie e trasformarle in canzoni. La mia peculiarità è quella di scrivere, di essere autore e cantautore. Bene, allora possiamo lanciare per i nostri amici a casa il numero solidale e anche un tuo messaggio accompagnato a questo lancio. Aiutaci anche tu a fare del bene donando al 45530. Grazie Giovanni. Grazie, ciao. Abbiamo ascoltato gli artisti, fra Alessandro, che ci hanno parlato appunto della loro esperienza e del loro contributo anche a questo progetto. Ma volevo chiederti anche a te, come artista, ma anche e soprattutto come religioso, no? Ogni volta che tu sei su un palco, cosa e come riesci a comunicare con il tuo pubblico e a capire che loro percepiscono quel messaggio d'amore? Guarda, è sempre un mistero, è una scommessa, perché io non amo molto fare concerti, così come non amo viaggiare, per cui è molto difficile per me a volte dovermi relazionare. Io mi fido, mi fido di Dio. Non so mai quello che comunicherò, quello che trasmetterò. Me lo dicono dopo, me lo dicono alla fine del concerto, mi hai dato questo, mi hai dato quest'altro, che poi in realtà è quello che fa Dio tramite la musica, tramite la mia voce. Io non sono pienamente consapevole. L'unica cosa che so che devo fare in quel momento è metterci il cuore e pregare. Perché poi tutto il resto lo fa Dio. Noi dobbiamo soltanto affidarci. Capita quelle volte che non ho voce, canto e magari non canto bene, ma la gente si sente toccata. Capita anche qualche volta che magari mi sento a posto, a posto, a posto e invece magari trasmetto un po' meno. Perché forse più ci siamo noi e meno c'è Dio. Io sono chiamato a stare lì con le mie competenze, con lo studio, la disciplina, che servono per ogni musicista, ma poi a mettermi da parte per lasciare lavorare Dio. Viviamo anche in un contesto di individualismo, tra Alessandro e ormai sotto gli occhi di tutti. Qual è il messaggio che vorresti lanciare per questo Natale come Chiesa, ma anche come artista religioso a chi ci segue da casa? Sarebbe molto bello se tutto il mondo dell'arte, tutti gli artisti fossero meno autoreferenziali. E questo Natale come, da questo Natale in poi, io mi auguro veramente che possa essere un messaggio bello, cioè quello di non prendere se stessi come punto di riferimento, ma di farsi tante domande e di capire che l'arte è a servizio della gente e non è a servizio di Dio e della gente, e non la gente a servizio dell'artista. Oggi si parla tanto di arte contemporanea, ma che è tanto brutta, ci sono cose veramente brutte nell'architettura, nella pittura, nella musica, nella danza, lo possiamo constatare, e magari la chiamano anche arte, non lo è. Questo succede quando l'artista sfrutta la gente e crede che la gente debba essere a suo servizio, tanto vero che dice non mi capiscono. Ecco, ci sia questa conversione, quello di tornare ad essere degli artisti a servizio dei fratelli e di Dio. Fra Alessandro, per chiudere non potevo non farti questa domanda come francescano. Volevo chiederti di San Francesco e di Greccio, il primo presepe che lui fece nel 1223, in quella notte, da cui poi la rappresentazione del presepe è diventata d'uso in tutto il mondo. Quando è rimasto attuale quel messaggio? Da quando Francesco ha fatto per la prima volta il presepe a Greccio, è cambiato tantissimo il mondo, si può dire. Perché? Perché Francesco ha incarnato, nel vero e proprio senso della parola, quello che è un principio della nostra fede, che, perdonate il gioco di parole, è l'incarnazione. Cioè, Francesco dice così, voglio vedere con gli occhi del corpo gli stenti, tutto quello che ha vissuto il Signore. Perché? Perché Francesco è un uomo estremamente concreto, è un uomo che vuole vedere, vuole toccare, vuole sentire. Per cui, per lui, avere lì davanti la scena stessa della natività era la realizzazione di questo processo di incarnazione di Dio, come renderlo di nuovo presente. Infatti ricordiamo che quando celebra l'Eucaristia, in quel primo presepe della storia, noi abbiamo Giuseppe, Maria, l'asino, il bue, ma chi manca apparentemente? Proprio Gesù. Gesù, in realtà, è proprio lì. Perché sull'altare, al momento della consacrazione, Gesù, in carne e sangue, è presente col suo corpo, con l'anima, la divinità. E questo ha reso possibile a Francesco di vederlo, nel suo contesto, come quando è nato. Questo è un principio che porterà Francesco anche all'estimate. Perché è così concreto nell'incarnazione, nel voler vivere questa incarnazione di Cristo, che Cristo stesso donerà al suo corpo, gli stessi segni della passione, con i chiodi addirittura. Per cui pensiamo che grande sconvolgimento è stato questo approccio all'incarnazione, da parte di Francesco. Fra Alessandro, io ti ringrazio. Ecco, si conclude qui questo momento. Ti ringrazio di aver camminato con me in questo speciale, aver ripercorso anche questo evento, ma anche questo momento di solidarietà. Vogliamo ricordare il numero a casa da digitare, che è il 45530, che è il numero solidale che è composto i nostri amici, digitare da casa. E nel salutarvi a tutti quanti a casa e Fra Alessandro, vogliamo fare anche in maniera speciale. Innanzitutto ricordandovi anche quello che Papa Francesco ci dice appunto del Natale. Un Natale in cui non ci sia la legge dello scarto, ma ci sia la legge dell'inclusione. Quindi i poveri, gli ultimi, sentirci realmente famiglia. Allora con Fra Alessandro abbiamo pensato che l'augurio più bello che possiamo fare a casa, a voi, alle famiglie, anche in questo clima di Natale, ma anche di pace, con un brano. Un brano che Fra Alessandro adesso ci canderà a cappella. Un brano tradizionale del repertorio italiano, vero? Esatto, del repertorio, diciamo proprio, internazionale. Internazionale. Sì, perché nel 1818, ovvero 200 anni fa, veniva scritto Stille Nacht, ovvero Astro del Cielo. E allora Fra Alessandro nel salutarci ci omaggerà di questo momento, soprattutto salutando tutti gli amici a casa. Io vi ringrazio di averci seguito e lascio questo messaggio, ricordandovi che l'amore può tutto e Dio incarnandosi ce l'ha mostrato. Astro del Cielo Pargol Divin Mite Agnello Redentor Tu che i vati da lungi sognar Tu che angeliche voci annunziar Luce donna le menti Pace in fondi nei cuori Luce donna le menti Luce donna le menti Grazie Fra Alessandro e auguri di Buon Natale a tutti e grazie di averci seguito. Falling in love Falling in love With Jesus Was the best thing I ever, ever done Grazie a tutti Grazie a tutti.